Ci sono una serie di questioni legate al denaro e una di queste è quello che ci dicono sul discorso della pensione. La pensione è una cosa che per la maggior parte di noi non ci sarà e per quelli che già l'hanno acquisita non sono convinto che saremo in grado di pagarla ancora per molto. E un po' di tempo fa è venuto un cardiochirurgo molto grosso, romano, che guadagnava circa 700.000 euro. Quindi voi direte 700.000 euro, uno che guadagna bene, però era anche uno che aveva un altissimo tenore di vita. E quindi si bruciava tutti questi soldi, quindi ero lì che stavo facendo una coaching e a un certo punto gli ho detto ma mi scusi quanti anni ha? Mi fai no, guarda io ho 55. Gli ho detto vabbè fra un po' dovrei andare in pensione. Sì? E come pensa di guadagnare questi 700.000 euro se non ha da parte niente? Ha tre case, ha uno stile di vita troppo alto, ha la moglie, l'ex moglie, l'ex moglie dell'ex moglie e l'amante. Come fa a mantenere tutto sto casino? Mi fa eh andrò in pensione e poi avrò la mia pensione. Gli ho detto fantastico, mettiamoci lì e facciamo il calcolo della pensione. Anzi no, chiamiamo il suo consulente del lavoro. Mi fa sì sì, lo chiamo, lo chiama e gli dice guarda ma io quanto porterò a casa di pensione? Lui più o meno, mi dicevo che guadagnava circa 60.000 euro al mese. L'ha chiamato e gli ho detto guarda di pensione prenderai 55.000 euro. Lui mi guarda, mi fa vedi, tanto fra un po' andrò in pensione, non è importante. E la mia cosa è stata di dirgli ma sì ma quanto al mese o all'anno? Gli ha risposto all'anno. Ora provate a pensare a una persona che per tanti di noi è fuori perché magari tanti di voi hanno 1.500, 2.000, però c'è anche gente che sappiamo che guadagna 5.000, 10, 20, 50.000 euro al mese, passare da 60.000 euro a 4.500 euro di pensione, che è già una bella pensione, provate a pensare a quanto deve ridursi il suo stile di vita. Quindi se lui non incominciava a fare in modo che quei soldi funzionassero da soli e riuscisse a trovare delle nuove entrate che sostituissero quella sua principale da qua ai prossimi dieci anni, lui diventa un nuovo povero. C'è una persona non che non potrà più mangiare, ma una persona che non potrà più avere lo stesso stile di vita e quindi non potersi più permettere quel tipo di vacanze, quel tipo di macchina e questa diventa una nuova porta. In un'economia di questo tipo è veramente un peccato.